Sai che ci stiamo avvicinando alla fine del mercato tutelato? Guarda sulla bolletta se la tua fornitura fa parte del mercato libero o tutelato. Nel mercato tutelato le condizioni sono fissate dall'autorità. Nel mercato libero sei tu a scegliere il fornitore di luce e gas in base alle offerte. E con Palsi Luce Gas puoi entrarci oggi senza costi di attivazione. Come? Attiva luce limite e metti un tetto al costo della componente energia. Così ti godi la libertà di un prezzo che può scendere. E sei sereno se il mercato sale. Scegli il futuro dell'energia. Scopri di più su Palsi.it